L'hotel Orazia si trova a Roma in ottima posizione, vicino all'ingresso della metropolitana linea A a breve distanza dal Colosseo, dalla stazione Ferroviaria Termini e dalle basiliche di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano L'hotel sporge su un antico e prestigioso palazzo di fine ottocento e dispone di 38 camere elegantemente arredate Dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli e telefono diretto In ogni camera si può disporre di tv, connessione ai canali satellitari, minibar, riscaldamento centralizzato, aria condizionata regolabile, connessione wifi e internet Alcune delle nostre camere superior, ampie e spaziose, godono di una splendida vista su una delle piazze più caratteristiche e alberate del centro di Roma L'hotel Orazia è a disposizione dei clienti per organizzare tour ed escursioni per la capitale e nei dintorni Alla prossima Alla prossima Alla prossima